Benvenuti al nostro nuovo programma Chi vuole essere statista? Gioco realizzato dalla classe prima A della scuola media di Sanfront. Oggi vi proponiamo un gioco sull'argomento sport. I nostri giocatori saranno in grado di rispondere correttamente? Seguiteci e non ve ne pentirete. Alla parire di tabelle istati il concorrente dovrà sapere rinunciare i dati più rilevanti. Il prospetto ventennale mostra un popolo sedentario. Ancora nel 2015 il 39% dichiara di non praticare né sport né attività fisica. Fortuna che ci sono i ragazzi della nostra età, unici 14 anni, con cui si raggiunge il livello massimo di sportivi. Poi dai 25 anni inizia la decadenza. Udite udite, negli anni 2006-2015 gli sport più praticati sono stati ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica. Ma se guardiamo l'età cambia tutto. Tra i bambini fino a 10 anni il nuoto e lo sport più praticato, 43,1%. Poi viene il calcio, 23,2%. E infine la danza, 15,8%. Sembra che le bocce siano lo sport per gli over 65. Altro che bocciati, quelle con più cultura praticano sport perché ne comprendono il valore. Bene il 51,4% degli sportivi è laureato, il 36,8% è diplomato. Ma lo sport si pratica per mille ragioni. I ragazzi come noi sono spinti dalla voglia di giocare, divertirsi e fare scuola con gli amici. Gli adulti invece cercano nello sport una soluzione ai loro problemi. Il peso fuori forma 65%, lo stress 44,5%. Non basterebbe forse rallentare un po'? No, la lentezza non è più ammessa. Neppure noi ragazzi che spesso occupiamo il tempo in una miriade di attività e allo sport dedichiamo in media due, quattro ore settimanali. La situazione cambia in base alle regioni d'Italia. Nel nord-est ha praticato sport in modo continuativo il 30,80% della popolazione e nel nord-ovest il 29,40%. Noi di San Fronto rientriamo in quest'ultima area geografica. I dati dell'anagrafe aggiornati al dicembre 2019 indicano appunto che i residenti sono 2.344, di cui 321 minori di 18 anni e quasi il doppio 614 oltre 65 anni. Ma non è un paese di nonni. Lo dimostra l'Unione Sportiva San Fronto Atletica, associazione nata nel 1974 che ben documenta l'antica e nobile passione per la corsa in montagna. E di strada l'Unione Sportiva ne ha fatta tanta e ora le classifiche mostrano fiore all'occhiello nell'atletica con titoli nazionali, individuali e di società. Tic-tac, tempo scaduto, il gioco è finito, ma chi ha vinto? Tutti è Zequo, però il vero vincitore è l'Istat che ci ha fatto scoprire molti strumenti per conoscere meglio il nostro paese. Gentilissimo pubblico, grazie per averci seguito. Noi ci siamo divertiti e arricchiti di sapere. Speriamo l'avete fatto anche voi. Vi aspettiamo alla prossima puntata.